partiti è in vantaggio Brandeburgo davanti ad Hunter Light, Dark Van Thunder, All Park Fair Blitz ostinato ed occhio della mente dopo 400 metri di corsa conduce Brandeburgo davanti a Dark Van Thunder Hunter Light ostinato, Fair Blitz ed occhio della mente all'inizio della curva in leggero vantaggio Brandeburgo davanti a Dark Van Thunder Hunter Light, All Park, Fair Blitz ostinato ed occhio della mente poco prima dell'ingresso in dirittura prosegue in leggero vantaggio Brandeburgo davanti a Dark Van Thunder Hunter Light e All Park, i cavalli entrano in dirittura con Brandeburgo in leggero vantaggio lungo la corda davanti a Dark Van Thunder, Hunter Light All Park ostinato, Fair Blitz ed occhio della mente e passa Hunter Light davanti a Dark Van Thunder, Fair Blitz, Wall Park, occhio della mente Brandeburgo ed ostinato e in vantaggio Hunter Light davanti a Fair Blitz, Brandeburgo occhio della mente, Wall Park ed ostinato e in vantaggio pur scartando Hunter Light davanti a Fair Blitz ed occhio della mente conduce Hunter Light davanti a Fair Blitz, occhio della mente e Wall Park gestione vor sinistra ora certamente voce grazie grazie st Grazie a tutti.